Benvenuti su MyFootballGersey. Oggi vedremo insieme la maglia dell'Arsenal, la prima maglia, quella di casa, per la stagione 22-23 nella versione fan o stadium, quella dedicata ai tifosi. La maglia presenta una grande novità, il ritorno del colletto Apollo dopo ben 16 stagioni. L'ultima volta era presente nella speciale maglia Bordeaux del 2005-2006 in onore dell'ultimo campionato disputato a Daigoli. Il colletto è accompagnato da un motivo a zigzag che richiama il disegno di un fulgine, un elemento già visto nella terza maglia 2021-2022, lo trovate in alto il link alla recensione. Il resto della casacca rispecchia il modello ideato da Herbert Chapman, corpo rosso e maniche bianche con l'aggiunta della scritta Arsenal applicata sul retro del collo. Gli insert in mesh sotto le braccia e la tecnologia anti-umidità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Veramente bellissima, questa maglia nella mia classifica prende 4 stelle. Mi ricorda tantissimo la maglia degli anni 90, che poi è l'obiettivo che ero allo stilista, ai tempi in cui giocava Bergkamp e altri giocatori fantastici di quell'epoca. Ora, mentre qui di fianco vedete, se tutto va bene col montaggio, la vestibilità di questa maglia, vi ricordo che prima di lasciarci vi chiedo di mettere un like e di iscrivervi al canale, non oggi, al canale, per avere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!